Un taranto cinico riesce a battere il Campobasso in trasferta per 1-0. Decide un gol di Peppe Giovinco, la novità di Giuseppe La Terza nel 4-3-3 iniziale. Stesso modulo di gioco per Cudini del Campobasso con l'ex Emmausso in campo. Parte decisamente meglio la formazione molisana, che al decimo minuto riesce ad arrivare vicino all'aria di rigore con una fiondata di bontà dal limite. Chiorra si distende e mette in calcio d'angolo. E' migliore l'approccio, come detto, dei rosso-blu di casa. Taranto in maglia bianca per l'occasione e al diciannovesimo ancora un Taranto che soffre. Il pallone di Liguori in aria servito al volo, Chiorra però dice di no. Il Campobasso si fa vedere anche al minuto 43 con Liguori che vede in aria Parigi. Anticipa ben assai senza centrare il bersaglio. Palla sopra la traversa e si chiude così il primo tempo. Nella ripresa l'episodio che cambia la partita. Siamo al 51esimo e c'è un'avanzata da parte di Saraniti. Si strattonano con Fabriani, poi è Fabriani a commettere fallo. L'arbitro vede tutto, si avvicina poi al giocatore del Campobasso e per lo schiaffo che ha ricevuto il numero 9 del Taranto da parte del 23 estrae il cartellino rosso. Il Campobasso è in 10 e va in difficoltà. Il Taranto ne approfitta in maniera, come detta, cinica e puntuale. Nonostante le lamentere del giocatore del Campobasso la decisione è definitiva. nessuna munizione per il giocatore del Taranto, l'attaccante degli Ionici che anzi fa densità al minuto 57. Quanto Franco Belloc se ne va sulla destra, il cross Peppe Giovinco arriva di testa 1-0. Il gol partita, il Taranto così conquisterà tre punti. Ma da quel momento in avanti gli Ionici proveranno addirittura a chiuderla a doppia mandata la partita. L'esultanza della panchina del Taranto. Il colpo di testa da parte dell'attaccante ex Pisa. Il bersaglio centrato, l'esultanza di Saraniti. Il Taranto, come detto, la prova a chiudere la partita al minuto 70 con un tentativo da parte dell'ultimo arrivato dal mercato. Sia Riccardi dal limite, ma il suo sinistro viene neutralizzato dal portiere di casa. E allora prova a farsi vedere in avanti la formazione del Campobasso. Siamo al 72esimo con circa un quarto d'ora, poi saranno sei minuti di recupero. Il Campobasso tenta di stringere i tempi. Innanzitutto con una conclusione dal limite di Rossetti che non trova lo specchio della porta. Cresce la formazione di casa con il tentativo al minuto 76 da parte di Parigi. È bravo Zullo a sporcare il pallone e mettere in calcio d'angolo. Allora il Taranto prova ad allentare la pressione da parte degli attaccanti del Campobasso con un'azione di alleggerimento. È il minuto 78 e ci prova l'autore del assist vincente, Franco Belloc, la parata del portiere del Campobasso. Il finale è tutto in chiave Campobasso, che si lamenta al minuto 89 per un tiro respinto con un braccio secondo i molisani da parte di Ferrara. Le immagini dimostrano che le braccia sono attaccate al corpo e per il nuovo regolamento non è fallo di mano. Al 93 ancora in avanti il Campobasso ma fa buona guardia a Chiorra che però deve vedere e sospirare quando al minuto 96 proprio negli istanti finali c'è l'occasionissima per il pareggio con Tenko Rang che arriva a sfiorare il palo con il suo destro. Il Taranto conquista tre punti pesantissimi per la classifica, quattro punti in due giornate, soprattutto il gol di Peppe Giovinco al minuto 57 che sblocca l'attaccante degli Ionici. Il Taranto può festeggiare, sono quattro punti in due partite il rosso-blu. Adesso si concentreranno sulla gara contro il Palermo sabato alle 17.30 allo stadio Erasmo Iacovone.